Prosegue a ritmo serrato la campagna vaccinale in provincia di Arezzo. Ad oggi sono state infatti somministrate ben 306.713 dosi su tutto il territorio. Di queste 188.269 come prima iniezione e 118.444 per il richiamo. Analizzando le varie fasce d'età si nota che i settantenni che si sono vaccinati hanno raggiunto quota 34.709, 28.760 hanno poi completato l'intero ciclo. Per quanto riguarda i sessantenni ad oggi sono 35.157 quelli che si sono vaccinati, 22.686 hanno fatto anche il richiamo. Ci sono poi i cinquantenni, 36.089 coloro che hanno ricevuto la prima dose mentre in 17.685 anche la seconda iniezione. I quarantenni che hanno ricevuto la prima dose sono invece 25.004 ancora indietro i più giovani con i trentenni che hanno ricevuto 15.966 dosi mentre i ventenni solamente 9.538. Complessivamente in tutta l'area vasta sono state somministrate 757.262 dosi. Insomma la campagna va avanti spedita come del resto nell'intera regione. Abbiamo circa 400.000 dosi in tutta la regione toscana ancora in deposito anche perché stiamo programmando, stiamo organizzando le seconde dosi. Noi dobbiamo essere sicuri anche di dare la seconda dose a chi ha fatto già la prima dose. In questo ambito, in questa visuale appunto abbiamo mantenuto e questa è notizia di stamattina appunto fornita dalla stessa presidenza della regione toscana abbiamo circa 400.000 dosi di cui 190.000 sono vaccini a vettore virale quindi sia AstraZeneca che Johnson e gli altri sono Pfizer e Moderna a disposizione della popolazione. Grazie a tutti.